Rischiamo la chiusura di molte attività commerciali, oltre che delle imprese in generale. È necessario che il governo intervenga immediatamente, riducendo il costo dell'energia perché altrimenti le imprese non ce la fanno. Anche Confesercenti esprime forte preoccupazione per le bollette che i commercianti sanno sostenendo, evidenziando come sia fondamentale un intervento immediato del governo. Tempo non ce n'è e si rischia di uccidere il commercio definitivamente. Assuma immediatamente dei provvedimenti che riducono il costo dell'energia per le imprese. I segnali che stiamo ricevendo sono segnali preoccupanti, per cui se non si interviene rischiamo davvero una desertificazione ulteriore delle nostre città. Vanno ridotti i costi dell'energia, continua Franceschi, altrimenti l'alternativa sarà chiudere. Io confido che il nuovo governo sia in una continuità con il governo Draghi e siccome sono certo che la responsabilità del nuovo governo sarà soprattutto legata a un intervento immediato per ridurre il caro bollette perché ne va la sostenibilità delle imprese ma anche per evitare problemi di ordine sociale in questo Paese. Io sono convinto che ci sarà un intervento che potrà dare una speranza e un futuro alle nostre imprese. Grazie.